Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una puntata, abbiamo ospite un cantautore, Ruggero Marazzi. La domanda perché non ti conosce, noi ti conosciamo artisticamente, ma per chi non ti conosce oggi, se dovessi descrivere chi è Ruggero, ma soprattutto utilizzare il personaggio in una possibile canzone, come la inseresti e come lo descriveresti? Il personaggio è un musicista che suona da tanti anni, che ha fatto molte cose, sia personali sia anche come musicista per altri. Ho scritto tante cose, ho lavorato per dieci anni con una band acustica con cui ho fatto due dischi, con una cantante femminile. Mi piaceva molto una cantante donna perché ho sempre avuto la passione delle voci femminili e quindi mi piaceva molto l'idea che le mie canzoni potessero essere interpretate da una sensibilità di quel tipo, da una donna. Poi l'esperienza, questa esperienza è finita e quindi io adesso ho fatto un disco che sta per uscire, di cui è appena uscito un singolo, nel quale riprendo esattamente sette brani del vecchio repertorio che io avevo fatto e ne ho inserito quattro inediti. Questa è più o meno in estrema sintesi la storia. Io sono un chitarrista di estrazione classica, poi ho fatto un po' di tutto, però diciamo che il mio amore è rimasto sempre abbastanza legato alle corde di nylon, mettiamola così. E a questo punto parliamo dell'ultimo singolo, quello che è uscito, Ricordati di te. Mi ricordo di te. Mi ricordo di te. Come nasce questo brano? Come si sviluppa per poi aggiungere a questo risultato? Dunque, il brano in realtà è una vecchia idea, perché la canzone parla, mi ricordo di te, è il ricordo di un amore lontanissimo nel tempo, di ragazzini, una storia di ragazzini, di una persona che poi ha preso la sua vita, chissà dove è. Però sai, questi ricordi ti restano nella mente e alla fine un pochino forse si trasfigurano, perché un po' sono ricordi, un po' diventano immaginazione, ma quello che ti resta dentro è il sentimento di quel periodo, di quei luoghi, di quegli anni. Ed è una riflessione in qualche modo sulla mia vita oggi, ma una riflessione disincantata, non necessariamente nostalgica. Cioè io ho una vita soddisfacente e felice, mi ricordo di questa cosa, me ne ricordo con piacere, e in qualche modo però mi chiedo di tutto il futuro che avevamo davanti allora, com'è stata o forse anche che cosa è rimasto. Nella realizzazione dei brani, perché poi un pochettino interessa anche i nuovi brani che entra a inserire nell'album, nella realizzazione dei brani nascono prima le parole, nascono prima la musica, nasce un riff, un beat, oppure nascono accidentalmente a volte insieme? No, sì, accidentalmente a volte insieme, però siccome io sui testi lavoro molto, forse perché sono pigro, forse perché sono nei miei limiti, un po' perfezionista, un po' pignolo, ci metto molto tempo io a scrivere i testi. Tendenzialmente io parto da una minima idea musicale e comunque quando scrivo un testo lo faccio sempre avendo bene in mente un andamento ritmico, che poi si può, molto spesso viene anche un pochino modificato il testo per esigenze musicali, perché non mi accontento di un testo definito e musicato così in qualche modo, per cui se a un certo punto una frase musicale, un disegno non mi piace o non mi soddisfa, lavoro entrambi, sia testo che musica, per arrivare a una sintesi ottimale. Non c'è una regola fissa però di questa cosa, a volte mi piace un riff musicale, ci butto su tre parole al volo e poi da lì, come tutti quelli che scrivono sanno bene, si parte da un'idea ma poi la canzone quando cresce, cresce in qualche modo da sola, perché ti vengono delle altre parole, ti vengono delle altre idee e quindi tu magari sei partito da un'idea grande così e alla fine hai tirato con una cosa che non dico che è completamente diversa, però spazia diciamo così abbastanza liberamente all'interno della fantasia. Intanto prima cosa vediamo la copertina del singolo che in realtà ci si è tende anche in tema, ma con lo sguardo in realtà rivolto verso, non so se è un laterale, un passato, forse è rivolto a qualcosa che in realtà tu stai pensieroso ma è un po' particolare questa copertina. Questa copertina è una fotografia scattata a Metropolitana di Milano, infatti è presa dal basso verso l'alto perché il fotografo era sulle scale, è un ingresso della Metropolitana. Sì, io ho uno sguardo un po' pensieroso ma in realtà è una postura abbastanza naturale del mio viso che suggerisce giustamente un'idea di pensosità, di cupezza, ma poi in realtà è un atteggiamento naturale, non è che io fossi particolarmente, o volessi particolarmente dare l'idea di una cosa così scura. Però mi rendo conto, lo so, che il mio viso, certe espressioni del mio viso, che mi vengono naturali ma che non sono ricercate, suggeriscono questa idea di pensosità e di cupezza che poi in realtà spesso non c'è. Cosa ti porti dietro dei vari premi vinti, ma soprattutto l'emozione, soprattutto nella prima volta che hai ricevuto un premio? Qual è stata e quale emozioni ti porti ancora dietro nel tempo? Beh, sono cose molto piacevoli perché vuol dire che una cosa che tu hai fatto è stata riconosciuta, quindi sai, quando uno scrive magari, come si dice, ogni scarafone bello a mamma sua, nel senso che quando tu scrivi una cosa è abbastanza facile che ti piaccia, altrimenti la lasci perdere. Se però viene riconosciuto un valore, una qualità, anche da una giuria terza dei concorsi, è chiaro che fa piacere. Il primo è stato una vecchia canzone che si intitolava Come si fa ed era stata cantata da una cantante, io ancora non facevo quasi niente, da una cantante di Milano, si chiamava Amelie, e aveva vinto il premio Poggio Bustone, che era un premio dedicato alla memoria di Lucio Battisti che si svolge appunto a Poggio Bustone in provincia di Rieti, che era il suo paese. E invece, ci ho suonato molte volte dal vivo, quali sono le emozioni? Quando si sale sul palco davanti c'è una platea che inizialmente è silenziosa, ma poi chiaramente suonando incomincia a animarsi, a prendere vita, e vi rimanda quell'energia sopra il palco, anche perché poi a volte le luci, il buio del palco, il palco è illuminato, quindi sotto non si vede, però si sente quell'energia che sale dal sotto e arriva a voi. La tua sensazione qual è, quando senti questa energia, che poi riedate quella vostra energia al pubblico? È una sensazione bella, è anche abbastanza un pochino elettrizzante, diciamo, nel senso che tu quando vai su un palco non sai mai come va, perché dipende anche dal contesto, bisogna vedere se la musica che tu proponi è adeguata al contesto, perché quando tu sei un musicista molto famoso, la gente viene a vederti, ti conosce già, sa già cosa aspettarsi. Molto spesso, invece, quando tu sei a suonare magari in locali, dove la gente ti viene ad ascoltare ma non ti conosce preventivamente, non è detto che la musica che tu proponi possa piacere subito. Quando però si installa questo meccanismo di reciproco piacere, è una sensazione molto bella, anche un po' come una droga quando parte questa cosa. E invece quando poi scendi dal palco e incontri la gente, chiaramente davanti, e ti fanno delle domande, ci sono domande che ti hanno sorpreso, forse perché riferimento alla canzone, che si sono riviste nella canzone, oppure hanno avuto quella sensazione, oppure ti hanno fatto domande così, solamente o ti hanno fatto solo i complimenti? Ma di solito quelli che si avvicinano lo fanno per farti dei complimenti, probabilmente quelli a cui non è piaciuto, giustamente, se ne vanno. Delle domande, domande vere e proprie no. Diciamo che una cosa che a volte mi ha sorpreso è il fatto che alcune persone hanno trovato nelle mie canzoni cose che io mai avevo pensato, però questo è il bello delle canzoni, nel senso che quando tu scrivi una canzone o una poesia, e nel momento in cui la pubblichi o la suoni, non è più soltanto tua, ma diventa di altri, e ognuno ci trova quello che è giusto che ci debba ritrovare. Questa è anche la bellezza di queste esperienze, di questo dare. Beh, effettivamente, prima hai detto, la musica parte da un'idea, una piccol'idea, poi in realtà la musica cresce, e così nel vivo a volte la musica prende così tanta vita che in realtà non è più tua, ma è fatta dalla gente che ti sta ascoltando sotto, che l'assimila e se la porta dietro. Quindi poi riuscire a convincere quelle persone che stanno sotto, forse è quella la parte più bella. Quella è la parte più bella, e quando questa cosa funziona è anche in qualche modo il privilegio di essere lì. Cioè diventa un privilegio il fatto di poter godere di una cosa così bella, così appagante. E invece c'è qualche aneddoto particolare che ti viene in mente nella realizzazione degli ultimi brani di particolare, di divertente, di stressante, perché a volte realizzare un disco in studio è comunque anche parte stressante. Che ti viene in mente? Episodi particolari no, perché io lavoro sempre con molta calma, con persone, un buon livello di professionalità, quindi non avevo avuto sorprese, stress, cose così. Diciamo che è stato un lavoro molto lungo, nel senso che poi eravamo sempre indecisi su alcuni arrangiamenti, su alcune scelte musicali, e quindi ogni tanto c'è stato qualche momento di stanchezza, dopo un po' di ore di studio e così c'è stato qualche momento di stanchezza. Però devo dire che se lavori con persone che hanno una professionalità da spendere, difficilmente vai a incappare in cose inaspettate. È molto piacevole invece, devo dire, lavorare con dei musicisti professionisti, professionisti perché da loro riesci ad avere qualcosa che tu non saresti in grado di mettere, perché è la loro professionalità, è la loro sensibilità a servizio del tuo prodotto e in questo senso si arricchisce. C'è qualche momento live che hai fatto nel tempo, che ti è rimasto un po' di... Dici, quell'evento, quella giornata è stata così stupenda, che in realtà mi piacerebbe quasi di viverla. È una sola no, scusa, ma una sola no, sono parecchie, nel senso che sono stati bei momenti, anche momenti un po' così così. Ogni tanto, come si dice, inserisci il cantante automatico, il chitarrista automatico, quando magari la gente non ti segue, ti strada, o sei in un posto dove la gente fa altro, però invece quando tu riesci ad avere l'attenzione di chi ti ascolta, e allora non è più una volta sola, loro sono parecchie, allora poi non senti più, non ti dà più fastidio la fatica magari di essere lontano, di dover tornare a casa di notte, eccetera, eccetera. Devo dire che sono stati parecchi, forse perché ne ho fatti tanti, sono stati molti i momenti, sono stati molti i momenti piacevoli. C'è qualche artista che parliamo musicalmente, che nel tempo, soprattutto da ragazzo, e ascoltando, poi ti sei accorto che ti hanno fatto crescere, e soprattutto un pochettino quel riff, quell'idea di musica, te lo sei portato dietro, perché in fondo, involontariamente, te lo porti dietro, nel tempo. Beh sì, io sono cresciuto da ragazzino, con tutto il periodo dei cantautori, quindi io conosco praticamente quasi tutto, dei vari, De Andrè, Cicini, e anche altri, ci sono anche altri autori che, alcuni autori li ho amati tantissimo da piccolo, poi li ho un pochino valutati, non dico in modo negativo, ma con un pochino più di critica, andando avanti con gli anni, acquisendo cose musicali, altri autori li ho scoperti, un pochino più in là nel tempo, uno per esempio che mi piace moltissimo, e che ho scoperto e amato molto, diciamo così, già in un'epoca un pochino più adulta, è stato Sergio Endrigo, un autore che mi è piaciuto veramente tanto, veramente tanto per la profondità, e la modernità dei suoi brani, soprattutto dei suoi testi. Poi mi piacciono molto, mi piacciono molto musicalmente, mi piacciono veramente molto, mi emozionano molto alcuni cantautori americani, come Tom Waits, per esempio, come Tom Waits, o in parte anche Leonard Cohen, Leonard Cohen un pochino meno, su alcune cose molto, su alcune cose meno, Tom Waits mi piace veramente tanto, mi piace moltissimo ascoltarlo, poi ogni tanto mi vado in giro anche ad ascoltare delle cose che non conosco, io passo le serate ogni tanto, invece che guardare la televisione, che non guardo mai, mi ascolto, mi vado a cercare delle cose, me le ascolto, a volte mi piacciono, a volte non mi piacciono, più alcuni punti fissi della vita, tipo, non so, alcuni dischi del Progressive degli anni 70, che io ero anche piccolino quando sono usciti, però poi negli anni li ho apprezzati veramente tanto. E questo disco uscirà soltanto in formato digitale oppure anche in formato fisico? No, questo disco uscirà anche in formato fisico, è in stampa in questi giorni, uscirà prima con formato digitale, naturalmente su un numero di copie, un numero di copie limitato, perché non ha più il cd fisico, non ha più tanto mercato, anche perché è difficile trovare anche i lettori, perfino i computer oggi escono senza i lettori del cd, se lo vuoi te lo devi mettere tu, per cui non si usa più tanto, però sì, comunque no, verranno stampate un certo numero di copie, perché mi piace l'idea di farlo, anche con il booklet dei testi, perché essendo i testi delle mie canzoni una componente alla quale io tengo particolarmente, mi piace che se qualcuno entra in possesso del cd abbia anche la possibilità di leggere i testi, di seguire i brani, come faccio, come facevo io, come faccio tuttora. Eh, nella lingua italiana poi scrivere un testo bisogna riuscire ad essere un po' sintetiche come l'inglese, ma essere coerenti e dare un senso logico anche al contenuto della frase. Certo, io infatti nel mio, questa è una cosa giustissima che tu dici, io nella mia pagina Facebook, quando c'è Facebook ti chiede di dare una definizione, io ho scritto scrivacchino di note e parole, ma lato di sintesi, perché la sintesi nella canzone è tutto, e ci sono alcuni autori che hanno una capacità, che avevano, hanno una capacità di sintesi veramente formidabile, e quelli sono veramente quelli bravi, perché riescono ad essere poetici in tre parole e raccontarti una storia. Allora, il disco digitale lo potete trovare, lo potete trovare su, credo, quasi tutte le piattaforme di vendita dei dischi digitali e i miei riferimenti personali sono la mia pagina Facebook che ha il mio nome, Ruggero Marazzi, il mio Instagram che ha sempre solo il mio nome, Ruggero Marazzi, e idem anche il mio canale YouTube dove a partire, dove fra pochi giorni sarà disponibile il video di Mi ricordo di te, e dove ci sono un paio di altre cose che volete potete guardare. Mi sono punti i saluti finali. Saluti a tutti voi, grazie, grazie a tutti quelli che ci guardano e ci ascoltano, e viva l'attenzione per la musica, l'attenzione per la musica, e non solo il consumo. E io a questo punto aggiungerei la musica e cultura ma deve essere pagata perché a fine mese gli artisti hanno le bollette e la famiglia da mettere a tavola. Discorso lungo questo. È verissimo. Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. e la famiglia di Pietro. Grazie.